Da Ego tutto il piano dedicato alla casa è in promozione, 10% di sconto sulle collezioni letto delle migliori marche come Borbonese, Blue Marine e Missoni, su tutto il reparto tavola e cucina, dalle porcellane alle pentole, piatti, tazze, fino alle macchine per il caffè. La promozione continua nella zona dedicata all'arredo bagno, alle spugne colorate e in fantasia di Somma e Missoni, tutto made in Italy. In sconto anche il reparto intimo, con i completi di Obad, Chantelle e Cosa Bella, ed infine il corner dedicato alle valigie e agli articoli da viaggio. In promozione abbiamo Bricks, Fabrica Pelletterie Milano, P-Quadro ed E-Bridge. Io vi ho avvisati, che cosa state aspettando? Venite a trovarci!